troviamo oggi su facebook vedete questo post sotto compare soltanto mi piace e commenta è un post pubblicato su un gruppo perché non posso condividerlo perché i post pubblicati su un gruppo di regola non possono essere condivisi sulla propria bacheca eppure esiste un modo selezionando infatti l'immagine si aprirà il visualizzatore immagini chiamiamolo così e guardate in fondo cosa c'è tag la foto opzioni tra cui abbiamo scarica e segnala e condividi basta fare condividi per rimediare al problema e condividerlo sul nostro diario scelta la privacy facciamo condividi